Tante storie anche oggi in questo nostro Milan, storie di tutti i giorni un po' se vogliamo rifarci al clima sanremese che molti di voi assaporano a partire da ieri sera. Tante storie perché oggi abbiamo sentito del ritardo, del ritorno di Mike, abbiamo sentito di Ibra che invece potrebbe essere convocabile per la partita di venerdì. Quindi naturalmente sono due notizie che non ci danno nulla in questo momento, nel senso che il ritorno di Mike ormai è nelle mani del Signore e solo lui può stabilire, o chi per lui, la data del rientro del nostro portiere che è avvolta dal mistero questa data. Doveva essere fine anno, doveva essere a Indovina addirittura, ricorderete, era amichevole, poi doveva essere sicuramente per la prima con la Salernitana nel 2023, sicuramente per la partita di Champions League, poi adesso siamo addirittura al ritorno di Champions League, la prima settimana di marzo e forse potrebbe non bastare e quindi ormai siamo destinati a condurre questa stagione senza il nostro portiere titolare. Chiaramente ci piacerebbe avere qualche spiegazione, se non altro per avere i motivi di tutto questo, augurandoci che chi di dovere sappia, e quindi chi di dovere sappia che cosa è accaduto e anche per evitare che accada in futuro, perché tra i tanti problemi che abbiamo c'è sicuramente anche la mancanza del nostro portiere titolare, ecco che guardiamo avanti. Ma per guardare avanti dobbiamo fare necessariamente un passo all'indietro, perché? Perché per capire le ragioni di questo momento del nostro Milan, oggi ci affideremo a un indice. Un indice che ci racconta il nostro stile. Perché? Perché sappiamo benissimo quanto il Milan di Pioli si sia il più delle volte mostrato nella sua forma migliore come una squadra molto aggressiva. Una squadra che andava presto a recuperare il pallone. Sappiamo quanto questa sia stata una strategia utilizzata da molti allenatori importanti nel corso degli ultimi dieci anni e che ha prodotto quel nuovo filone di calcio che tende a recuperare presto il pallone e con un numero di passaggi limitato ad arrivare verso la porta avversaria. Dal Geek & Pressing a tutta la sua evoluzione siamo andati verso quella strada. E Pioli l'ha intrapresa bene con un gruppo di ragazzi che hanno creduto a questo progetto. Questo tipo di gioco, questo tipo di pressione, questo tipo di aggressione, nella sua essenza, quindi senza tener conto poi dell'effettiva qualità della pressione o l'effettivo riscontro da un punto di vista di gol fatti o di occasioni da gol, si misura attraverso un indice. Un indice che dà l'idea, se non altro, del tipo di partita che si è voluto impostare e del tipo di gioco che una squadra fa. Quest'indice è praticamente quello che misura l'intensità del pressing ed è un rapporto tra il numero di passaggi dell'avversario e quelle che sono considerate le statistiche difensive, ovvero i duelli vinti, i tackle, gli intercetti e i falli. Più basso è il valore, maggiore è l'intensità di questo tipo di gioco. E allora adesso vi faccio vedere una serie di numeri che ci raccontano il Milan e ci raccontano perché la partita con la Juventus sia stata quella che ha rovinato la nostra stagione. Ovviamente sono ironico, ma adesso capirete il motivo di questa mia affermazione. Andiamo allora a vedere questo bel tabellum. Il tabellum ci riporta a sinistra le partite del Milan, fin qui giocate, per quel che riguarda la Serie A, quindi limitatamente al campionato, e poi l'indice che, come vedete, insomma adesso intanto ve lo ingrandisco un po', così riesco a leggerlo anch'io. Eccolo qui. L'indice è questo valore che è dato appunto dal rapporto tra il numero di passaggi della squadra avversaria, duelli vinti, i tackle, gli intercetti e i falli. Che cosa notiamo immediatamente? Notiamo che il Milan, lo vediamo meglio qui, lo vediamo meglio in questo grafico, eccolo qui, il Milan si è tenuto all'inizio della stagione sempre con dei valori che oscillavano tra un indice di 3.9 in casa con l'Udinese, quindi un'attività di pressione molto intensa, a valori un pelino diversi ma abbastanza simili, 5.2 con l'Atalanta, 5.4 col Bologna, 4 con il Sassuolo nella trasferta terminata 0-0, e poi vedete Milan-Inter 5.4, il derby d'andata, la trasferta a Genova 5.8 nonostante l'inferiorità numerica, il 5 di Milan-Napoli e poi il 3.7 di Empoli-Milan. Poi cosa succede? Succede che arriva la Juventus, arriva la Juventus e il Milan improvvisamente passa a un 7.7. Ora, io vorrei dire una cosa riguardo a questa partita. Le ragioni, una delle cause del tracollo del Milan siamo stati noi, perché? Perché abbiamo spesso e volentieri ricondotto la miglior partita della stagione a quella gara lì, a quella gara con la Juventus, e in un certo senso è vero, perché il Milan migliore, visto quest'anno, da un punto di vista di equilibrio, da un punto di vista di concedere all'avversario il possesso, tant'è che la Juventus fa in quella partita un numero altissimo di passaggi, adesso ve lo faccio vedere, aspettate che ci rimettiamo in pista con il browser, eccolo qui. Allora, la partita con la Juventus vede la squadra bianconera, dove è la riga, eccola qua, vede la squadra bianconera fare addirittura 547 passaggi, uno dei numeri più alti, superato soltanto dall'Inter nell'ultima gara di campionato, per ragioni che poi vedremo. Quindi, in questo senso, è stata la partita perfetta, ed è stata la partita che ha dato l'indice di pressing tra i più bassi, cioè più alti, ma più bassi come indice di pressing, della stagione. Forse solo con l'Inter, si siamo andati a 7.9 nella partita di domenica. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la madre di tutte le nostre partite è stata quella lì, e lì si doveva costruire, intorno a quella gara, intorno a quel tipo di schieramento, intorno a quel tipo di utilizzo di uomini, intorno a quel modo di fare Milan, che dimostra anche un'altra cosa. E qui veniamo a, in un certo senso, se non smentire, ovviamente, ma ridimensionare un pochino la leggenda del Milan, che deve a tutti i costi andare a mille, che deve a tutti i costi pressare a bestia per tutta la partita. No, il Milan è capace anche di fare partite come quella con la Juventus. Quindi una partita organizzata, perfetta, concedendo poco a un avversario, che è vero, attraversava un periodo difficile della sua stagione, ma che comunque era un avversario, insomma, di livello. Ecco, non stiamo parlando di, come dire, di squadrette, stiamo parlando di una squadra comunque importante, al di là di tutti i problemi che ha incontrato. Poi cosa è successo? È successo che Pioli a quella partita si è ricondotto in alcuni momenti. In alcuni momenti è andata bene, in altri è andata male. Ad esempio, in Champions League, vi faccio vedere una cosa. Questo qui è il Milan in Champions League. Il Milan in Champions League ha avuto un indice che è stato spesso molto alto. Al di là della prima partita con il Salisburgo, quella di Salisburgo dove siamo andati a fare la nostra gara, con la Dinamo Zagabria già in casa siamo andati a un 6.1, con la trasferta di Londra 6.5, la partita in casa col Chelsea naturalmente 9.1, perché insomma siamo rimasti in dieci, sappiamo tutte le questioni della vicenda, ma anche la partita di Zagabria è stata una partita di scarsa intensità, così tutto sommato come quella in casa col Salisburgo, dove siamo tornati a un livello un pochino più alto. Qui vedete il grafico. C'è anche il grafico combinato che mostra qui la partita con la Juventus e poi qui la partita in casa con il Chelsea, che probabilmente doveva andare in modo diverso. Ma anche la trasferta di Zagabria è stata una trasferta dove comunque non siamo andati ad altissima intensità. Un'altra cosa interessante è questa. Tornando sul tabellone del Milan, adesso aspetta che dobbiamo ridurre un pelino, altrimenti non si vede. Chissà se si può fare tipo un 120 qua. Si può fare un 120. Aspetta, mettiamo 120%. Forse si vede meglio. Allora, partita con la Juventus. Partita fatta bene, benissimo. Faro della nostra stagione. Da lì poi abbiamo avuto una fase dove abbiamo ripreso a pressare molto la trasferta di Torino, che abbiamo perso, la partita in casa con lo Spezia, che abbiamo vinto un po' a fatica, e il pareggio di Cremona. Queste tre partite sono contraddistinte, come vedete, da un indice di pressione molto importante, perché 3,5, 3 con lo Spezia, 3,1, e 2,8 con la Cremonese, sono tra i più alti, o per meglio dire, sono tra i valori più bassi e quindi con la pressione più alta che il Milan abbia fatto quest'anno. E sono tre partite dove non siamo andati molto bene. La stessa cosa quest'anno. A Salerno abbiamo fatto bene, pur comunque, diciamo, una seconda parte di gara non è celsa. Poi abbiamo fatto 3 con la Roma e abbiamo pareggiato, ma abbiamo fatto 3,1 anche a Lecce, dove ovviamente il dato è sporcato dal secondo tempo, ma noi a Lecce abbiamo giocato come, o per meglio dire, siamo stati in campo, abbiamo provato a fare quello che dovevamo fare. Poi siamo andati a Roma e a Roma naturalmente ci siamo di nuovo disastrati. Siamo andati a 6,2. Siamo tornati a 3,5 nella gara interna col Sassuolo, che tra l'altro ha una caratteristica particolare che adesso vi faccio vedere e che dimostra come quella sia stata proprio una partita maledetta, perché qui in alto c'è la tabella del... Aspetta, che la metto alla giusta misura. C'è la tabella degli XG. Ovvero dei gol subiti dal Milan e dai gol attesi subiti. La partita con il Sassuolo ha una caratteristica... Adesso aspetta, che vi faccio vedere. Vi faccio vedere questo grafico qua. Eccolo qui. Adesso ve lo posso far vedere. Ha una caratteristica, dicevo, la partita col Sassuolo che mostra questa cosa qui. Che la gara col Sassuolo noi abbiamo fatto due gol. Il nostro XG è stato di nove per quel che riguarda i gol fatti. Ma guardate qui, i gol subiti. Ne abbiamo subiti cinque nella gara col Sassuolo e l'XG del Sassuolo è stato nove. Quindi vuol dire che veramente più vicini sono i due pallini, diciamo, nel nostro grafico. E' peggio la situazione. Tipo la trasferta di Torino. Due gol subiti a fronte di sette XG per il Torino. Gol attesi. Ecco, questo è un altro dato importante. Poi, ovviamente, siamo andati alla partita di domenica. La partita di domenica è stato un disastro perché abbiamo fatto registrare un indice che adesso vi faccio vedere che è questo qui che è un indice di 7.9 addirittura. 7.9 La dimostrazione è che noi abbiamo proprio abbandonato ogni velleità di gioco e questo è dimostrato anche dai numeri perché la partita con l'Inter ha visto 572 passaggi per i nerazzurri. Noi abbiamo vinto 46 duelli che è meno è meno, diciamo, della media generale. Abbiamo vinto 9 takel abbiamo intercettato solamente tre volte e questo è un dato bassissimo e poi falli numero di falli, insomma, nella media. Ecco, il riassunto di tutto questo spero di essere stato chiaro è che, diciamo non dobbiamo pensare necessariamente che questa squadra sia incapace di fare calcio se non pressa come una forsennata. Cioè io credo che Pioli non lo so se la strada che ha intrapreso è quella giusta nel senso che io me lo auguro io mi auguro che lui abbia visto qualche, come dire qualche indicazione positiva dalla gara di domenica buon per lui ma ne abbiamo parlato ieri nel corso dell'analisi della gara e quindi su quella strada voglia continuare per dare solidità difensiva per riuscire da questo momento attraverso diciamo una ritrovata una ritrovata fase difensiva però questo indice che ovviamente da solo ci dà un'idea andrebbe completato con altri fattori ma insomma ci dà un'idea di come quella partita quella con la Juventus avrebbe dovuto essere davvero il nostro punto di riferimento non il 3-5-2 magari ma il nostro 4-2-3-1 che diventa in realtà un 4-3-3 che lo si fa con i modi giusti senza doverci ammazzare per forza tutto questo chiaramente a patto che che tutti abbiano voglia di fare che tutti siano protagonisti eccetera eccetera che insomma che Leao torni a fare il Leao che Teo torni a fare il Teo che torni Benasser insomma che Milan ritorni con i suoi singoli ad essere squadra ma nel momento in cui noi siamo stati squadra e abbiamo fatto una grande partita è stato nel momento in cui abbiamo pressato di meno in cui abbiamo come dire giocato in maniera meno forsennata e più ragionata cioè la gara con la Juventus non tutte le partite sono uguali non tutti gli avversari sono uguali chiaramente però ecco lì saremmo dovuti andare secondo me a pescare il nostro il nostro cammino e invece paradossalmente quella è stata la partita alla quale Pioli poi ha fatto probabilmente riferimento adesso per cercare di ritrovare quella compattezza ma le cose non sono andate bene l'abbiamo visto domenica attendo i vostri commenti e vi auguro una buona serata grazie a tutti